Mi chiamo Simona Bianco, sono una consulente di fundraising e filantropia strategica con la mia società Engagedin e sono un'ex allieva del master in fundraising. Io ho fatto il master e avevo già 38-39 anni, adesso non ricordo esattamente. È stato un anno super impegnativo perché già lavoravo, già lavoravo da tempo e già avevo un impegno nel fundraising. Tornassi indietro a rifare esattamente la stessa cosa, a maggior ragione per il fatto che avevo già iniziato a lavorare nel fundraising, avevo già un'esperienza professionale in realtà di più o meno 12-13 anni già di lavoro. E questo in realtà mi ha consentito di capitalizzare tutto quello che ho imparato durante il master, mettendo la servizio di un lavoro che già facevo, quindi assolutamente sì. È stato rappresentato un po' un continuum rispetto alla mia vita professionale precedente, dandomi però l'opportunità per cambiare, facendo un salto verso un mondo che mi interessava di più conoscere. È un lavoro bellissimo, un lavoro che richiede tanto impegno e tanta passione, ma non si può improvvisare. Quindi bene la passione, ma occorre studiare, occorre formarsi, occorre avere una solida base di competenze e di conoscenze per poter davvero essere degli ottimi fundraiser. Grazie. 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 Grazie.